Si è tenuta a Torino la tredicesima conferenza delle Alpi, l'organo che prende le decisioni più importanti nell'ambito della convenzione delle Alpi, il trattato internazionale sottoscritto dagli otto stati che si affacciano sull'arco alpino, Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera, nonché dalla comunità europea con l'obiettivo di garantire una politica comune dell'area. Nata nel 1991, il suo obiettivo consiste nel valorizzare il patrimonio comune delle Alpi e nel preservarlo per le future generazioni attraverso la cooperazione transnazionale tra i paesi alpini, le amministrazioni territoriali e le autorità locali coinvolgendo la comunità scientifica, il settore privato e la società civile. A Torino c'è stato il passaggio di consegne tra la presidenza italiana, che l'ha tenuta per gli anni 2013-2014, e quella tedesca. I paesi alpini si impegnano ad adottare misure specifiche in 12 ambiti tematici, popolazione e cultura, pianificazione territoriale, qualità dell'area, difesa del suolo, acqua, protezione della natura e tutela del paesaggio, agricoltura di montagna, foreste montane, turismo, trasporti, energia e rifiuti. L'arco alpino si estende per 1200 chilometri e da sole Austria-Italia rappresentano più del 55% del territorio della convenzione, in cui vivono 14 milioni di persone, visitate ogni anno da 120 milioni di turisti. Sotto la presidenza italiana sono state preparate le linee guida per l'adattamento ai cambiamenti climatici a livello locale nelle Alpi. Per l'interazione tra popolazione di città e di montagna sarà fondamentale nei prossimi anni. Solo attraverso uno sviluppo sostenibile che si può avere uno sviluppo alpino. Partendo da questo presupposto abbiamo cercato di elaborare tutta una serie di programmi, in particolare per quanto riguarda i giovani e per mantenere i giovani all'interno della montagna, perché ci deve essere un significato. La montagna è bellissima ma è anche, fra virgolette, può rivelarsi faticosa, per cui come renderla meno faticosa sono state anche le domande che ci siamo posti all'interno di questa sise nell'ambito della conferenza delle Alpi. La Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazzi hanno adottato una posizione comune riguardo ai cambiamenti climatici, che sarà presentata alla prossima conferenza mondiale sul clima, che si terrà a dicembre a Lima, in Perù. I temi principali di questa conferenza sono stati lo sviluppo del turismo sostenibile e della green economy, essenziali per la conservazione dell'ambiente alpino. Con la proposta del sostegno alla montagna, perché è un grande contenitore di quelle che sono le nostre biodiversità da un lato, ma anche in una prospettiva futura di quello che potrebbe essere lo sviluppo maggiore della green economy. Ricordiamoci che la montagna dà l'acqua a 50 milioni di abitanti e quindi la montagna, le Alpi in particolare danno acqua a 50 milioni di abitanti ed è un numero molto più importante rispetto a coloro che invece in montagna vi abitano e questo per noi è davvero molto significativo. È stata richiesta una maggior praticità, soprattutto in vista dello sviluppo della green economy all'interno dei territori montani, ovviamente noi stavamo parlando delle Alpi e quindi all'interno delle Alpi, perché riteniamo che sia la chiave di sviluppo da presentare e anche da proporre per quanto riguarda i prodotti montani a Expo 2015 in una settimana, la settimana della montagna dal 4 all'11 di giugno che si terrà prevalentemente nel padiglione svizzero.